Fischiamo tutto molto leggero, si spiana subito, veloce, altrimenti si esce in una montata molto leggera e viene infornata nel fuoco a 150 gradi per un'ora. Poi, fatto freddo, raffreddato, si passa alla marmellata, solo sottile, marmellati albibocca e poi il coperto è di più corrompondente. Noi ci mettiamo quegli amicini, la meringa, dove un dolce molto semplice, leggero e velocissimo da parte. C'è solo un'ora nel forno e poi l'importante è quando viene montato, soprattutto il bianco d'uovo.